Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Avviso Scoperto, l'informazione senza veli. Allora, oggi prima di iniziare a entrare nel vivo di questa trasmissione, voglio raccontarvi cosa è successo, recentemente abbiamo fatto, non proprio recentemente, diciamo un mese e mezzo fa, circa due mesi fa, la prima intervista che ho fatto a padre Benù, padre Gennaro per chi ha seguito queste interviste, si intitolava Sospeso a Divinis ed è stato pubblicato sul nostro canale Rumble, poi su richiesta proprio di padre Benù l'ho pubblicato sul mio canale YouTube personale, la versione proprio integrale e ha avuto un enorme successo, ha preso 60.000 visualizzazioni e, incredibile ma vero, incredibile ma vero, YouTube ha avuto l'ardire di rimuovere questo video. E la cosa più surreale, divertente, perché ormai io ci rido sopra, mi hanno rimosso decine di video, mi hanno messo in shadow ban, mentre invece c'è gente che su YouTube dice le peggio cose e YouTube lo sponsorizza, è incredibile questa cosa, non si capisce, comunque sia me l'hanno censurato con la scusa, la panzana, che questo video faceva disinformazione sui vaccini. Ora, è assurdo tutto questo, questo praticamente è il primo effetto del Digital Service Act di cui abbiamo parlato nelle puntate precedenti, in realtà qui YouTube ha usato la scusa di questo, di entrate in vigore di questo Digital Service Act per prendersela con me, perché ovviamente non mi vuole bene YouTube come tutti gli altri social, Google, Facebook e compagnia cantante. Allora, io lo dico da tempo, io i social li utilizzo, sia quelli diciamo mainstream, se così possiamo definire, che quelli magari meno mainstream come Rumble, che è un social libero, e ancora Telegram è abbastanza libero, e li utilizzo, ma cosa faccio? Non faccio i selfie o grandi cose, mi limito a pubblicare i video, i link ai video, agli articoli che quotidianamente pubblichiamo su Radio Roma Television, quindi l'uso che ne faccio è solamente informativo verso le persone che mi seguono. Però la verità è che, come sempre, c'è la censura, a parte il fatto che c'è gente come la verità, che vengono fuori oggi con la censura, non si sono accorti o non gliene fregava di meno, chiedo scusa, che è iniziata 4, 5, 6 anni fa questa censura sui social e su internet. Però ovviamente quando vengono colpiti loro, la censura, la censura, la censura. Allora, il discorso è molto semplice, come tutte le cose, se non avessimo accettato il Green Pass, il Green Pass non sarebbe mai entrato in vigore. Quindi non c'è niente di più semplice, abbandoniamo Google, usiamo un altro motore di ricerca, abbandoniamo tutti i social che hanno firmato, si dice, nuove piattaforme che hanno firmato per la censura e andiamo su piattaforme libere. In questo modo avremo dato una mazzata incredibile a questi signori, gli facciamo capire che non ce ne può fregare di meno dei loro social e gli facciamo perdere un bel po' di soldini, ce ne andiamo sui social liberi. Poi se questi social liberi diventeranno anche loro, vanno a firmare, si passerà su altri social liberi. Ormai è questo, si può definire una guerriglia, ovviamente, tra virgolette, ma di questo si tratta. Adesso entriamo nel vivo della trasmissione con la prima slide, prego regia. Eccola qua, stretta su Euro 4,5 in Piemonte, la follia del Piemonte, anche il centrodestra in pieno delirio green. Delibera di Cirio è in stile PD Grillini, un incubo distopico, attacco bipartisan alle nostre libertà con il pretesto dell'ambientalismo. Restrizioni senza basi scientifiche. Nell'articolo si legge, molti di voi avranno sentito parlare degli inauditi limiti alla circolazione che la regione Piemonte si appresta a imporre ai suoi cittadini a partire dal 15 settembre. E qui vorrei fare una riflessione. La benzina, come mai? Non si sa, ma ad agosto schizza sempre, come l'anno scorso, sopra i 2 euro, sempre quando le persone sono in vacanza. La delibera, la comunicazione, la fanno adesso, entra pochi giorni fa. Insomma, l'hanno fatta, scusatemi, l'hanno fatta ad agosto comunque e il 15 settembre dovrebbe entrare in vigore questa delibera. Cosa prevede questa delibera? In buona sostanza, questo ascoltate bene perché è importante, perché ci coinvolge tutti questa cosa, la vogliono fare in tutta Italia. La delibera consente la libera circolazione sul territorio regionale a chilometraggio illimitato alle sole vetture full electric o a quelle euro 6, mentre stabilisce un limite massimo di chilometri. Quante volte, ve l'ho detto in questa trasmissione, ci limiteranno l'uso dell'automobile? Quindi un limite massimo di chilometri annui che sarà possibile percorrere con le autovetture di classe inferiore a euro 6, quindi o sei ricco o te ne vai a piedi. Via via decrescenti in funzione della classe ambientale, da un massimo di 9.000 chilometri per i veicoli euro 5 a un minimo di 1.000 chilometri per i veicoli euro 0, euro 1 ed euro 2. Nell'intero territorio dei comuni interessati a tale riduzione, e quindi non solo in centro città, nelle aree urbane, ma anche nei campi, ecco, uguale. Per la cronaca i comuni aderenti rappresentano la stragrande maggioranza dei comuni piemontesi, quindi i signori sindaci che avete eletto sono tutti contenti, d'accordo, su questa privazione, assoluta privazione della libertà più fondamentale che abbiamo, ovvero possedere un'automobile e andarcene dove vogliamo. Un incubo distopico, perché questo è un articolo di Nicola Porro, non l'ho detto. Per regolamentare tutto ciò la regione ha aderito, sul blog di Nicola Porro, ha aderito a un complesso sistema di conteggio già presente in Lombardia, che fa invidia al peggior regime autoritario che vi possa venire in mente. Ecco, basato su app per smartphone e a ridaglie, sei obbligato a installarti l'app per smartphone, un dispositivo satellitare da tenere in auto e pure il dispositivo ti danno il controllo totale. È una piattaforma web di gestione su cui i possessori di auto, fino a Euro 5, devono, sono obbligati a registrarsi per poter avere il diritto a circolare nei limiti del chilometraggio annuo a loro assegnato, altrimenti ti attacchi al tram, vai a piedi. Ditemi voi, siamo in democrazia o siamo in dittatura? Magari fossimo in dittatura, siamo in totalitarismo, peggio del totalitarismo. Tale diritto a circolare non sarà ovviamente gratuito, eh, ovviamente, mica è gratuito, devi pagare, eh, 50 euro per l'iscrizione al portale e 20 euro annui, e che si aggiungono ovviamente alla tassa di proprietà del veicolo e tutte le altre tassi, l'assicurazione, eccetera, 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 il cambio dei pneumatici, quelli, quell'alto invernale o estivi, eccetera. E poi c'è il sistema Move, che si chiama così, sta di avoleria, questo incubo distopico, l'autovettura sarà continuamente tracciata nei suoi parametri fondamentali, posizione, velocità e accelerazione. Quindi sapranno in ogni momento cosa state facendo, ma sentite l'assurdità, sentite. Naturalmente, come in ogni buon regime totalitario che si rispetti, accanto al bastone c'è la carota. La piattaforma Move in stabilità, move in, scusate, si chiama move in, quindi la piattaforma Move in stabilirà infatti per ogni utente, un coefficiente di merito, un coefficiente di merito, in base che sarà concesso percorso, quindi chilometri in più che ti regalo, secondo il seguente schema. 0,200 metri per ogni chilometro percorso su autostrade con velocità compresa tra i 70 e i 110 km all'ora. 100 metri aggiuntivi per ogni chilometro percorso su strade urbane con accelerazioni non superiori a 2 metri al secondo. Quindi, ma lo so, uno si mette in macchina l'accelerometro, non so come si può fare. Siamo alla follia. Che cosa vi posso dire? Oltre a dirvi che ve l'avevo detto, da quanto tempo parlo del pericolo della digitalizzazione del controllo, da ancora prima della pandemia, dei pericoli del Green Pass e della deriva Green, abbiamo parlato più volte in questa trasmissione, che comunque tengo da luglio 2022, quindi insomma almeno su questa trasmissione è più di un anno che ne parlo, del credito sociale e delle limitazioni alla circolazione. Ovviamente per il mainstream erano discorsi da complottisti, è ovvio, ma oggi che sono realtà? Anche una capra capirebbe che ci hanno chiusi in un recinto e che la maggior parte delle pecore ci è entrata felice ed entusiasta. E da sola ovviamente, no? Ve lo ripeto, il Green o l'elettrico sono solo la scusa, il problema che hanno creato per offrirci la soluzione, in perfetto stile totalitario dell'Unione Europea. Qual è il fine? Beh il fine è privarci delle proprietà privata delle auto e tra poco anche delle case e dei terreni. Ma l'italiano medio continua a preoccuparsi del calcio, dello smartphone, della tv a pagamento, delle ferie, dei talent e dei reality show. Buon divertimento, vediamo la prossima slide. Regia per favore. Gorradino Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.